Quest'anno il concerto viene dedicato in modo particolare a un ricordo di un giovane che ha suonato in una banda, aveva la sua passione per la musica, ha cantato anche in questa basilica, ricordiamo Angelo Olito. Però dico da questo momento in poi non ricordiamo più Angelo con le lacrime, ricordiamolo con gioia, Angelo è in mezzo a noi, ricordiamolo per la sua dolcezza, per la sua gioia, perché ho avuto il piacere di conoscere la casa vostra, ricordiamolo in questo modo, ricordiamolo presente in mezzo a noi. Passo poi alla trumba con la quale frequentò il conservatorio e ultimamente ci stava preparando perché voleva diplomarsi con il suo gruppo. Ed è proprio quella trumba con la quale Angelo ha iniziato e ha fatto il suo ingresso al conservatorio di Napoli che noi genitori conserviamo con tanto aspetto, questa sera con lo stesso aspetto, con immenso piacere e con tanto amore doniamo alla vostra associazione musicale, affinché possiate ridargli voce e rifarla spillata per mantenere sempre viva la memoria di Angelo. e con la semplicità, il sorriso e l'allegria che lo caratterizzavano e che vivranno insieme con noi di vero cuore vogliamo ancora ringraziarvi, augurarvi un sempre più prospero cammino ed un felicissimo nuovo anno. Auguri a tutti, giorni e a tutti. Nell'abbraccio ai genitori abbracciamo Angelo, questo già ben chiaro e chi suonerà questa trumba veramente avrà un grave confido, un grande confido. Ecco, il maestro Galisse continuerà il concerto suonando la trumba di Angelo. Grazie mille. Grazie.